E benvenuti anche nel 2024, buon anno a tutti, benvenuti anche quest'anno su questo canale per questo nuovo video. Ho deciso di iniziare l'anno nuovo parlandovi anche del mio lavoro, perché in diversi poi tra l'altro anche i miei conoscenti e quant'altro magari non sanno qual è il nuovo percorso lavorativo che ho intrapreso negli ultimi mesi del 2023. E porto questi argomenti in felpa, sì, perché di solito siamo abituati a sentire parlare gente gioca e cravatta, soprattutto di questi termini, però anche le partite IVA hanno bisogno di ferie, le utilizziamo prevalentemente per piangere, però le utilizziamo e quindi oggi ve le porto così, perché sono a casa, sono in ferie, giustamente tranquillo. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo. Infatti nel 2024 il bonus mutuo prima casa spetta non solo ai giovani under 36 con requisiti ISEE, ma anche a famiglie numerose a basso e medio reddito. In entrambi infatti c'è diritto all'accesso prioritario al fondo di garanzia CONSAP e la copertura della garanzia sul mutuo prima casa è pari all'80% della quota capitale del finanziamento per i giovani, mentre c'è una novità che per le famiglie può arrivare fino al 90%, ma lo vedremo bene. Il governo ha infatti previsto la proroga dei mutui garantiti all'80% per acquisto prima casa da parte dei giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro, ma ci sono dei punti anche lì. Il fondo offre sul mutuo una garanzia pubblica con controgaranzia dello Stato, sul mutuo per l'acquisto appunto della prima casa. È gestito dal CONSAP che si occupa delle domande pervenute dai soggetti finanziatori, quindi le banche, e c'è una cosa importantissima, cioè che non può esserci un ulteriore garante siccome c'è già lo Stato che si fa appunto garante. L'accesso alla garanzia di Stato concessa dal fondo sui mutui prima casa è estesa appunto ai nuclei familiari con almeno tre figli di età inferiore a 21 anni e 40.000 euro di ISEE. La garanzia sale quindi fino al 90% con 5 figli under 21 e 50.000 euro di soglie ISEE. In particolare possiamo dividere tre fasce per renderla più semplice. I nuclei familiari quindi con tre figli di età inferiore a 21 anni che hanno un valore di ISEE inferiore ai 40.000 euro. I nuclei familiari fascia media che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore di ISEE che però non deve superare i 45.000 euro annui. E i nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore sempre a 21 anni e che hanno un valore di ISEE però non superiore ai 50.000 euro all'anno. Per le domande di finanziamento presentate dal 1 febbraio al 31 dicembre 2024 la garanzia è rilasciata rispettivamente nella misura massima dell'80% della quota capitale alla prima categoria, 85% alla seconda categoria e 90% alla terza categoria. Ma domanda delle domande, per questo bonus quali requisiti sono necessari per avere la garanzia dello Stato? Il fondo è rivolto praticamente a tutti i cittadini, alla data di presentazione della domanda, non proprietari di altri immobili dell'uso abitativo, nemmeno all'estero. Salvo che per successione causa morte e c'è tutto il titolo gratuito a genitori o fratelli. L'agevolazione per i giovani è riservata ai soggetti appunto fino al 36esimo anno di età e come abbiamo appena visto con un ISEE inferiore ai 40.000 euro che però comprano l'abitazione principale. L'ammontare massimo del mutuo invece resta quello dei 250.000 euro. Il bonus mutuo prima casa si applica anche alle pertinenze come i box auto e si può estendere anche alle prime abitazioni comprate tramite asta giudiziaria. Con la manovra del 2024 la parte del bonus inerente alla defiscalizzazione delle imposte, quelle derivanti dalla compravendita e dell'atto di mutuo purtroppo non sono state prorogate. Le agevolazioni infatti collegate all'acquisto dell'abitazione principale sono terminate il 31 dicembre 2023. Nello specifico si trattava per l'atto di acquisto di esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d'imposta nel caso di acquisto dal costruttore con IVA ed esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui casa, quindi acquisto, costruzione e ristrutturazione. A partire però da gennaio 2024 si torneranno alle agevolazioni classiche previste sulla prima casa, quelle che avevamo visto prima della precedente legge di bilancio, cioè un'imposta di registro dal 2 al 9% per prima o seconda casa, un'imposta ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna e un'aliquota per le vendite soggettate a IVA dal 4 al 10%, con però le imposte ipotecaria e catastale che passavano a 200 euro ciascuna. Cosa importante, il credito d'imposta spetta fino a fine 2023 utilizzato in diminuzione delle imposte di registro ipotecaria e catastale sulle successioni e le donazioni. Può essere anche portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi o usato in compensazione di ritenuta da conto, contributi previdenziali o premi assicurativi contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Inoltre chi stipula un mutuo per l'acquisto della prima casa ha anche diritto a una detrazione dall'IRPF sugli interessi passivi e gli oneri accessori pagati alla banca. La detrazione fiscale è calcolata nella misura del 19% su interessi passivi e gli oneri accessori e si applica super a un massimo di 4.000 euro. La detrazione può essere richiesta nell'anno in cui sono state effettivamente sostenute le spese, indipendentemente dalla data di scadenza. L'immobile però deve essere adibito ad abitazione principale o deve diventarlo entro i 18 mesi dall'acquisto. Ci sono però anche delle deroghe per coloro che devono trasferirsi per motivi di lavoro. La detrazione è destinata a chi ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se la casa è adibita ad abitazione principale però di un parente. Se il mutuo invece è cointestato, ciascun mutuatario ha diritto alla detrazione in base alla sua quota di interessi. Anche per i mutui accesi per la costruzione o ristrutturazione della prima casa è possibile beneficiare delle detrazioni sugli interessi passivi e gli oneri accessori. La detrazione infatti è sempre calcolata al 19% e spetta però per un importo massimo di circa 2.500 euro. La stipula del mutuo deve avvenire sei mesi prima dell'inizio dei lavori o entro i 18 mesi successivi all'avvio delle opere di costruzione oppure di ristrutturazione. Entro sei mesi dal termine dei lavori l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale con oltretutto lo spostamento della residenza affinché la detrazione venga concessa. Quindi se vi è piaciuto questo video, se avete trovato importanti e interessanti le informazioni che vi ho riportato oggi su questa nuova legge di bilancio per quello che riguarda ovviamente il lato acquisto casa, utilizzo del mutuo e quant'altro, ditemelo sotto nei commenti. Mi raccomando lasciate un bel mi piace se vi interessa questo mondo scrivetemi tranquillamente siccome me ne occupo quindi potrebbe essere che possa anche darvi una mano e niente non ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!